I Monti Dauni si ribellano le continue interruzioni delle telecomunicazioni e preparano un ricorso da presentare al prefetto di Foggia e all'Agecom, Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni. A renderlo noto il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, i comuni dei Monti Dauni, sottolinea Cavalieri, non sono più disposti a subire disservizi causati dalle interruzioni delle linee telefoniche e della connessione ad internet. I disservizi, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, vanno avanti da molti anni. All'azione che Troia intende promuovere si uniranno anche altri comuni, da Roseto Valfortore a Castelluccio Valmaggiore, da Alberona a Dossara di Puglia, Faeto, Anzano, Castelluccio dei Sauri. Piccolissimi, piccoli, medi, tutti centri che da tempo subiscono interruzioni. In molti tratti, sottolinea il sindaco Cavalieri, le reti aeree versano in uno stato disastroso con cavi penzolanti che corrono lungo il ciglio della strada. Vergognoso è trattamento che Telecom riserva le aree interne dei Monti Dauni, continua ancora il sindaco di Troia. Se si pensa che lo Stato continua a finanziare interventi per la banda ultralarga, quella che stiamo vivendo è una situazione paradossale che pretendiamo venga risolta, tuona Cavalieri. Grazie a tutti.